Il primo gennaio del 2024, la madre di Filippo Turetta si è recata in carcere con l'intento di visitare suo figlio. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. Tuttavia, l'incontro ha preso una svolta inaspettata quando la donna ha discusso animatamente con le guardie carcerarie. Desiderosa di portare il figlio Filippo Turetta a casa con arresti domiciliari, ha sollevato una forte protesta, creando un notevole tumulto. Nonostante le sue richieste siano state respinte, la madre ha continuato a provocare scompiglio, costringendo le guardie a intervenire per mantenere l'ordine nella struttura. La situazione è sfuggita di mano a causa del caos creato, portando all'arresto temporaneo della madre, che è stata posta in cella per alcune ore al fine di calmare la situazione. Questo inaspettato episodio ha aggiunto un capitolo di turbamento e complicazioni alla già difficile vicenda legale di Filippo Turetta. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille.